baseball primo video in questo primo video dedicato al baseball dopo una breve introduzione parleremo del campo da gioco dell'attrezzatura necessaria per praticare questo sport delle squadre della durata della partita di come si svolge e infine dell'arbitraggio cominciamo il baseball è uno sport di squadra popolarissimo negli stati uniti e che a partire da dopo la seconda guerra mondiale ha avuto qualche diffusione anche in italia il nome dello sport deriva da due degli elementi fondamentali della disciplina vale a dire le basi e la pallina nelle prossime slice vedremo che ce n'è un terzo vale a dire la mazza il campo da gioco il campo da gioco la forma di un arco di cerchio diviso in due parti un quadrato di 27,43 metri di lato chiamato diamante mentre il rimanente spazio è detto campo esterno ai vertici del quadrato sono poste le basi chiamate rispettivamente casa base prima base seconda base terza base al centro del diamante si trova la pedana del lanciatore tutte queste cose le visualizziamo in questa immagine qui l'attrezzatura per il gioco l'attrezzatura per il gioco è piuttosto complessa ed è costituita da la palla formata da strati di sughero lana gomma e pelle con una circonferenza compresa all'incirca tra 22 e 23 centimetri e un peso di poco inferiore ai 150 grammi la vediamo qui la palla poi c'è la mazza in legno alluminio lo lunga poco più di un metro con un diametro nella parte più spessa di 7 centimetri eccola qui infine c'è il guantone in pelle che rappresenta il prolungamento della mano ed è necessario perché non è possibile afferrare direttamente la pallina lanciata a grande velocità a causa della sua durezza ecco qui il guantone sono inoltre previsti caschi di protezione e per il ricevitore l'arbitro maschera in ferro per proteggere il volto gambari di protezione giubbotto imbottito vediamo un ricevitore con queste altre attrezzature parliamo delle squadre le squadre sono composte da 15 20 giocatori ma solo 9 per volta entrano in campo ora vi presento un'immagine in cui si vede la disposizione dei 9 difensori in giallo mentre gli attaccanti vanno alla battuta uno dopo l'altro e in queste immagini sono dei pallini celesti ma vedremo in un'immagine successiva più dettagliatamente la disposizione dei giocatori in campo parliamo della durata della partita il gioco non ha limiti di tempo e si svolge su 9 innings riprese cioè una squadra alternativamente deve giocare per 9 volte in attacco e in difesa ogni fase dell'inning a termine quando 3 attaccanti vengono eliminati in caso di punteggio decisamente favorevole a una squadra l'arbitro può però decretare la fine dell'incontro anzitempo per manifesta superiorità una squadra che festeggia la vittoria parliamo dello svolgimento del gioco la squadra sorteggiata si pone in difesa e un attaccante con la mazza si posiziona in casa base per effettuare la battuta vediamo in questa immagine il lanciatore tira la palla al ricevitore all'interno di un riquadro immaginario detto zona di strike e il battitore cerca di colpire la palla e di mandarla fuori dal campo o comunque il più possibile lontano questo è il lanciatore questo è il battitore il battitore e i suoi compagni di squadra sono in attacco il lanciatore e i suoi compagni di squadra sono in una fase di difesa dal momento in cui ha colpito la palla il battitore può correre a occupare una base così i difensori cercano di recuperare la palla e di eliminare il battitore il battitore conquista il punto quando riesce a completare il giro delle basi toccandole tutte e tornando alla partenza compiendo cioè questo giro qui ciò può essere effettuato sulla propria battuta o su quelle successive dei compagni naturalmente il battitore può accontentarsi durante un turno di attacco di conquistare una o più basi intermedie e di completare il percorso verso la casa base e quindi ottenere il punto durante una battuta successiva ad opera di un compagno all'interno però di quello stesso turno di attacco il battitore conquista una base anche se il lanciatore lancia quattro volte fuori dalla zona di strike e ogni errore del lanciatore viene detto ball vediamo questo approfondimento sulla zona dello strike il lanciatore deve far passare la palla sopra il piattello di casa base ad un'altezza variabile tra il livello delle ginocchia e quello delle ascelle del battitore avversario se vi riesce ottiene uno strike se non vi riesce perché viene colpito dal battitore è gioco valido altrimenti è ball se la palla viene mancata dal battitore che rimane immobile e esce però dalla zona dello strike non passa di lì il battitore viene eliminato se sbaglia tre battute e quindi il lanciatore ottiene tre strike la sua battuta viene presa al volo cioè colpisce la palla ma la palla viene presa al volo dalla difesa mentre corre da una base all'altra viene toccato al difensore con la mano che impugna la palla e ancora i difensori riescono a far giungere la palla un loro compagno che tocca la base verso cui sta correndo l'attaccante prima che l'attaccante riesca ad arrivarvi mettendosi così in salvo in questi tre casi in questi quattro casi il battitore viene eliminato i difensori non possono ostacolare l'avanzata dell'attaccante e gli attaccanti non possono ostacolare la presa della palla da parte del difensore infine l'arbitraggio l'arbitro si pone in casa base dietro il battitore al ricevitore per poter verificare la correttezza dei lanci e quindi decretare se siano strike o ball è assistito da dei giudici di base che hanno il compito di controllare se arriva a toccare la base per primo l'attaccante o il difensore con la palla e per comunicare le sue decisioni l'arbitro utilizza dei gesti che vedete qui raffigurati inizio del gioco strike ball battuta valida base conquistata giocatore eliminato e time out seguiteremo il discorso nel prossimo tutorial buono studio